Anche quest'anno viene organizzata a Florarte in collaborazione tra quattro comuni. Sì, assolutamente sì. Squadra che vince non si cambia, come si diceva prima in conferenza stampa. È stata una bella esperienza lo scorso anno, pensiamo di ripeterla quest'anno. Anche perché è inutile andare a sovrapporre delle iniziative che invece vanno fatte in maniera cadenzata e soprattutto concordata. Per cui i nostri uffici di Castellamonte, ma gli uffici dei quattro comuni, hanno lavorato in sinergia. I quattro assessori, che ringrazio, hanno lavorato in sinergia, assieme alla Coldiretti, assieme all'ASCOM. Faremo tutti assieme delle belle iniziative. Poi ognuno nei suoi comuni avrà delle particolarità, però mi sembra una buona squadra. E la squadra che vince non si cambia. Un'altra novità di quest'anno che accomuna tutti e quattro i comuni è quella del gelato. Il gelato. La mia pancia. Sì, il gelato. Bellissima questa iniziativa che hanno ideato i nostri assessori. Ci sarà una gara, tra virgolette, una gara di gelati floreali, quindi al gusto di fiori. Per cui ci sarà una... mi dicono che siamo in giuria i quattro sindaci, che poi andremo a valutare il gelato più buono. Ci sarà una premiazione, credo, alla manifestazione di Fabria. Andremo a decretare poi il vincitore. Ecco, è una buona cosa, anche per la competizione sana e bella, porta anche delle buone... sicuramente porta delle buone cose. Ricordiamo le date e i comuni. Allora, si parte dal 1 maggio al comune di Rivarolo. Il 5 maggio saremo qui a Castellamonte. Il 12 maggio saremo a Quornier. E il 19 maggio chiuderemo a Fabria. A posto, fermi, fermi. Arcelele.